Carlo Sain è un artista toscano di Firenze che da sempre ha condiviso l'esperienza interconnessa e mobile di Tam Cagliari. Il lavoro che ci invia per Tam Cagliari 2017-2018 è un lavoro intensissimo. Questo lavoro recita come didascalia stuzzica pagina. Ed è un lavoro del 2001, quindi un lavoro storico di Carlo Sain. Vedete come corrode la superficie, come rivela la vera essenza delle immagini digitali, svelandone tutta la loro ipocrisia. Questo tipo di lavoro, stessa serie di opere, rivelatrici quasi antiseduttive, capricci di goia. Non fosse per il fatto che si tratta di immagini pubblicitarie, mediatiche, che diventano l'incubo dell'artista, di Carlo Sain. E' un evento pittorico sull'immagine d'interno. Ancora Carlo Sain, altro incubo. Come in questo caso. E' un lavoro che consiste nel piacere di sfigurare delle immagini che non esistono. Quindi rivelarne tutta la loro essenza mostruosa e incantatoria, quasi come le sirene di Omeo. E' da testimonianze di sue mostre, di suoi lavori, anche queste trattate come invito nella stessa maniera dei suoi lavori storici. Vi invitiamo a conoscerlo, indagare su di lui, farvelo amico su Facebook. Lui è Carlo Sain. Tam Cagliari.